Il contatto fisico La nostra prima forma di comunicazione Protezione, sicurezza, conforto, tutto nella semplice ciazza di un dito O di due labbra che sfiorano una guanza morbida Ci unisce quando siamo felici, ci sostiene nei momenti di paura E ci emoziona nei momenti di passione E di amore Abbiamo bisogno di quel topo, quella persona che ne amo Quasi quanto abbiamo bisogno di respirare Ma non ho mai capito l'importanza di quel tocco Del suo tocco Fino a quando Non ho potuto più averlo Quindi Se Se state guardando questo video Vi è concesso Toccate lui Toccate lei Toccatevi Sentitevi La vita è Troppo breve Per poter sprecare anche solo il respiro E Grazie a tutti.